Si intitola Mittente Wolfgang de Mozart, lo spettacolo che andrà in scena giovedì 3 febbraio alle 21 al Teatro Regina Margherita all'interno della stagione nazionale organizzata dall'amministrazione comunale. Lo spettacolo avrà come protagonista l'eclettico Tullio Solenghi che si dedicherà ad una pièce insieme al trio d'archi di Firenze per raccontare attraverso un carteggio che parla dell'ultimo capolavoro cameristico del musicista di Salisburgo in maniera anche ironica e divertente della sua vita. Si tratta di un ritratto umanissimo e sorprendente di Mozart, ripercorrendo le fasi della sua esistenza di cui si scoprono le relazioni affettive, i temi più cari al compositore che toccano diversi registi espressivi, dal bullesco all'ironico, dal grotesco al tragico.